Il valore dell'acqua è il volume che il CESPI ha pubblicato insieme all'editore Donzelli. Il CESPI è un centro studi di politica internazionale che annualmente produce un annuario su quelli che sono i temi centrali dell'agenda internazionale, in particolar modo dell'agenda europea. L'acqua è un valore strategico che a partire dall'agenda 2030 è riconosciuto come valore strategico fondamentale, non solo di riduzione della povertà ma anche in termini di disuguaglianza, in termini di accessibilità. Il volume intende affrontare questo tema individuando nell'acqua un elemento centrale anche dal punto di vista geopolitico attraverso i contributi di esperti accademici che cercano di guardare al tema nella sua complessità.